Terin Trentini, la moglie di Riccardo Fogli, ha rotto il silenzio raccontando la sua verità, ma qualcosa nelle sue parole non quadra Ecco di cosa si tratta.Il gossip del tradimento della moglie di Riccardo Fogli.Non si sta parlando d'altro da settimane nei salotti di Barbara D'Urso Fabrizio Corona ha fatto uscire il gossip che vedrebbe Terin Trentini tradire il marito Riccardo Fogli da ben quattro anni Il presunto amante sarebbe Giampaolo Celli, uomo per cui la Trentini lavora come modella Terin e Giampaolo continuano a negare. Riccardo Fogli continua a dire di credere fermamente in sua moglie Tuttavia, continuano ad uscire delle foto molto compromettenti. Lo stesso Fabrizio Corona ha dichiarato di aver frequentato spesso Terin e Giampaolo e di avere altre prove inequivocabili Pomeriggio 5, la verità di Terin Trentini.Dopo tutto quello che è successo nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, Terin ha deciso di rompere il silenzio in una serie di video di sfogo su Instagram Nell'ultima puntata del reality, Riccardo Fogli ne è uscito molto provato perché Fabrizio Corona gli ha fatto recapitare un video con dichiarazioni molto pesanti In ogni caso la moglie del cantante e madre della loro piccolina di sei anni, ha smentito ancora una volta Barbara D'Urso ha mandato in onda i video a pomeriggio 5.Cherin ha dato una spiegazione per la prima foto che può dimostrare il tradimento, lei in abito da sposa e l'ha scritta 4 anni Ecco le sue parole, . Quel vestito da sposa non sono neanche sicura che fosse della persona di cui stiamo parlando Però, se andate a vedere nel post, c'è il nome di un fotografo che ho conosciuto 4 anni fa Mi ha fatto quella foto in quella sfilata, il post era per lui.Poi ha voluto spiegare anche la seconda foto che ritrae lei e Giampaolo Celli abbracciati in modo molto affettuoso su un dondolo Terin ha detto, . La foto sul dondolo. Mio marito era presente in quella foto, era lì con noi Anche lui ha una foto con quel personaggio, con la stessa maglietta.Infine, . Ma secondo voi se tradisco mio marito metto le foto su Instagram? Tradisco mio marito da quattro anni e nessuno mi fa una foto. Mio marito mi crede e tutto il resto è solo schifo Karin Trentini racconta la sua verità ma qualcosa non torna.Le ultime affermazioni fatte dalla donna non corrispondono con quanto detto da Riccardo Fogli nell'ultima untata dell'Isola dei Famosi Il cantante ha chiaramente negato di conoscere Giampaolo Celli e di essere stato presente nel momento in cui è stata scattata la foto sul dondolo E questo, purtroppo, alimenta le voci e il dibattito su questo argomento Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like .